L'economia tedesca non sembra essere più la locomotiva dell'Europa, infatti sta attraversando un periodo di forte incertezza e instabilità. Non si è ancora ripresa dalla pandemia e cosa ancora più importante, sta attraversando un momento molto complicato in quanto è stata colpita duramente dalla crisi energetica. Nella prima metà di quest'anno il Pio tedesco si è contratto per due trimestri consecutivamente, aprendo le porte verso una recessione tecnica, di cui però ancora non si conosce la gravità e nemmeno la durata. Potrebbe essere solamente un momento temporaneo di instabilità e indebolimento, così come potrebbe essere anche una recessione più profonda e duratura. Ancora non lo sappiamo e non sappiamo come si svilupperà la cosa. Quel che è certo è che se guardiamo un attimo i dati del settore manifatturiero tedesco possiamo vedere dei numeri allarmanti per quanto riguarda il mese di luglio. Il PMI manifatturiero della Germania a luglio si è portato a 38,8, quindi è sceso rispetto al livello di giugno quando era 40,6. Parliamo di un numero pessimo in quanto è molto inferiore rispetto alla soia critica di 50, che sarebbe quella soia che separa l'espansione dalla contrazione. Per cui questo sta a significare che i produttori di beni stanno facendo i conti con prezzi di fabbrica inferiori, con ordini in calo e con una produzione ridotta, il che non è sicuramente incoraggiante. Infatti il dato riportato a luglio del settore manifatturiero è il peggiore da maggio del 2020. Oltre a questo parliamo del sesto mese di calo consecutivo. Comunque l'indice PMI è un indicatore molto importante della salute economica di un paese e ogni volta che si porta sotto la soia di critica di 50, beh questo è un campanello d'allarme. Secondo il Fondo Monetario Internazionale nel 2023 l'economia tedesca sarà la peggiore, sarà l'unica a contrarsi fra i paesi del G7. Invece secondo il ministro dell'economia tedesco, ovvero Robert Hebeck, la Germania dovrà affrontare 5 anni molto difficili. Ma perché dice questo e soprattutto a che cosa allude? Allora come tutti noi sappiamo l'UE ha imposto molte sanzioni alla Russia dopo l'invasione russa dell'Ucraina. Ovviamente il paese guidato da Putin ha risposto inalzando i prezzi delle gas e innescando una crisi energetica nell'UE. Questa crisi ha colpito in particolar modo la Germania in quanto ne era fortemente dipendente. Quindi questi avvenimenti stanno costringendo la Germania a passare ad un'industria che si basava fortemente sui combustibili fossili verso un'industria che si basa invece sull'energia rinnovabile, quindi sulle fonti green. Per cui il ministro dell'economia tedesco, ovvero Robert Hebeck, ha chiesto al governo di stanziare dei sussidi per aiutare le imprese ad effettuare la transizione green. In questa mossa però c'è un grosso ostacolo da sormontare, ovvero il PSC. Il PSC è il patto di stabilità e crescita, ovvero un accordo fra i paesi membri dell'UE per mantenere la stabilità economica. Una delle regole principali su cui si basa è che il deficit pubblico di un paese, cioè il deficit pubblico sarebbe quella situazione per cui un paese spende di più di quanto in cassa, non debba superare il 3% del PIL. Ciò significa in sostanza che, a differenza degli Stati Uniti, che si possono indebitare e che si indebitano come se non ci fossero domani, la Germania è uno dei paesi più virtuosi per quanto riguarda la gestione delle sue finanze pubbliche. Infatti negli ultimi anni, eccetto che per il 2020 il suo deficit pubblico è stato sempre inferiore al 3% del PIL. Anzi, molte volte è registrato addirittura un avanzo, cioè la situazione per cui un paese guadagna più di quanto spende. Quindi questo 3% stabilito del patto di stabilità e crescita è un impedimento per la Germania per effettuare questa transizione green, per cui dovrà superare questo ostacolo per riuscire in questa mossa. Ma oltre a questo c'è un altro problema all'orizzonte. La Germania, per riuscire in questo intento, cioè di passare da un'industria basata sui combustibili fossili verso una basata sull'energia rinnovabile, deve mantenere un rapporto molto solido con la Cina, dalla quale è fortemente dipendente. Pensate che l'87% dei pannelli fotovoltaici importati durante il 2022 dalla Germania proveniva da dove? Ovviamente dalla Cina. Il Dragone infatti sta acquisendo un ruolo fondamentale in questo campo e sta contribuendo a riempire i magazzini europei di pannelli fotovoltaici per la transizione green. Ma oltre a questo la Germania è molto dipendente dalla Cina anche per quanto riguarda le terre rare. Infatti il 95% delle terre rare importate da Berlino proviene per appunto dalla Cina, che ne è molto abbondante da questo punto di vista. Le terre rare comunque sono degli elementi fondamentali per la transizione green, in quanto permettono di costruire elementi come i pannelli fotovoltaici, le paleoliche e così via. Ma oltre a questo fatto c'è anche un altro ostacolo ancora. La Germania sta affrontando una fuga di capitali e di investimenti dal proprio territorio. Secondo la Banca Centrale Europea durante lo scorso anno, durante il 2022, circa 135 miliardi di euro di investimenti sono fuggiti via dal territorio tedesco. Quindi ci sono state più persone che hanno rimosso i propri investimenti dal territorio tedesco piuttosto che quelle che invece hanno investito in Germania. E anche questo è sicuramente un campanello d'allarme. Per cui la situazione che si sta dipingendo entro i confini della prima potenza economica europea non è sicuramente incoraggiante e rassicurante. La Germania sta affrontando molte sfide e se negli scorsi anni è riuscita a mantenere un'alta competitività con le superpotenze mondiali, riuscendo a farsi prestare una quantità ridotta di denaro per finanziarsi, mi sa che nei prossimi anni questa cosa cambierà. Quindi se vorrà effettuare la transizione green dovrà sicuramente farsi prestare più soldi, sicuramente aumentare il proprio debito pubblico, ma oltre a questo soprattutto dovrà mantenere dei rapporti molto solidi, stabili e duraturi con il dragone, da cui è fortemente dipendente. Poi non dimentichiamoci che i boom tedeschi a 10 anni non sono più negativi come lo erano durante il 2020, ma oggi alla Germania costa molto di più riuscire a farsi prestare i soldi dagli investitori in quanto deve pagare di più di interesse per ricevere soldi per finanziarsi. Insomma ci sono tante carte in tavola che stanno giocando a sfavore della prima potenza economica europea e che potrebbe metterla in difficoltà nei prossimi anni. Voi ragazzi che idee vi siete fatti in merito? Pensate per caso che la Germania possa perdere il suo status di terza economia più importante al mondo nei prossimi anni, magari facendosi superare dalla Francia oppure dal Regno Unito? Oppure pensate che sia solamente una situazione temporanea di instabilità e debolezza e che presto possa riprendere in mano la situazione e il controllo della sua economia? Fatemi sapere questo sotto nei commenti cosa ne pensate perché mi fa molto piacere leggere i vostri pensieri a riguardo. Grazie per la visione, io vi saluto e vi mando un grande abbraccio. Alla prossima, ciao!